La rivoluzione inglese è quella serie di eventi che portarono l'Inghilterra a limitare il potere assoluto del re, stabilendo un nuovo sistema di governo, la monarchia costituzionale. Nella monarchia assoluta il sovrano può esercitare il potere in assoluta libertà, totalmente svincolato da qualsiasi norma, mentre nella monarchia costituzionale deve soggiacere ai principi enunciati in quella che in Inghilterra veniva chiamata Bill of Rights o dichiarazione dei diritti. E condivide il potere con il Parlamento. Ma per capire come si è arrivati a questo cambiamento è necessario chiarire le caratteristiche della società inglese del 1600, una società che aveva subito nell'ultimo secolo delle grandissime trasformazioni. Da una parte l'aristocrazia antica cercava appoggio nel re che favoriva leggi che le permettevano di mantenere i propri privilegi e di far fronte alla crisi, alla crisi di guadagni che ricavava dalle proprietà terriere, perché i nobili di antico rango gestivano le terre secondo un modello antiquato, tendenzialmente passivo, basato sullo sfruttamento estensivo della terra, cioè puntavano sul fatto di avere grandi estensioni di territorio ma non si impegnavano a sfruttarle in modo da incrementare la produttività. Anche la chiesa anglicana sosteneva la monarchia assoluta. I vescovi della chiesa anglicana, per esempio, erano scelti tra i rappresentanti dell'antica aristocrazia ed erano scelti dal re. Questa vecchia aristocrazia nel Parlamento inglese era rappresentata dalla Camera dei Lord. Dall'altra parte c'erano nuovi ceti emergenti, nati con le ultime trasformazioni economiche, quelle dell'ultimo secolo. Questi ceti erano rappresentati dalla Gentri, che era una piccola nobiltà di campagna che possedeva terreni più piccoli, ma li coltevava secondo moderne tecniche che permettevano uno sfruttamento intensivo ed erano molto produttivi. Questa classe era nata dopo che, con la pratica delle enclosures, in italiano campi chiusi, i terreni agricoli erano stati recintati, cioè sottratti all'uso collettivo. Nell'Europa continentale una parte dei terreni veniva lasciata libera a disposizione della collettività. Invece in Inghilterra vengono appunto creati questi campi chiusi, che erano tutti destinati alla proprietà privata. Infatti se oggi andiamo in Inghilterra vediamo un paesaggio completamente diverso da quello della campagna dell'Europa continentale. Tutti i campi sono recintati da siepi. Poi abbiamo i piccoli imprenditori che con la diffusione dell'industria a domicilio fornivano ai contadini il necessario per filare e per tessere. I contadini, soprattutto durante l'inverno, producevano infatti tessuti in lana, materiale che era facilmente reperibile perché in Inghilterra l'allevamento delle pecore era diffusissimo. Poi c'erano i mercanti imprenditori, i commercianti al dettaglio che vendevano i prodotti delle lavorazioni domestiche delle campagne nelle città. Per esempio, soprattutto a Londra, che aveva un mercato amplissimo in quanto dal 1500 al 1650 gli abitanti erano quintuplicati, erano diventati 400.000. Infine, c'erano i grandi mercanti che con lo sviluppo dei commerci atlantici attraverso l'oceano stavano accumulando guadagni consistenti. Insomma, una folla di persone che si erano affacciate alla nuova vita economica e che non avevano voce in capitolo nelle decisioni del re. Questi gruppi erano rappresentati dalla Camera dei Comuni. La Camera dei Lordi e la Camera dei Comuni ancora oggi sono i due rami del Parlamento inglese ed ancora oggi ne rappresentano rispettivamente l'ala conservatrice e l'ala moderata. Vi erano poi i ceti meno ricchi che nella Rivoluzione non ebbero grande spazio. Erano costituiti da piccoli contadini, marinai, servi, manovali. Bisogna, infine, chiarire i ruoli delle confessioni religiose, che ebbero un certo peso nella Rivoluzione inglese e nelle dinamiche della società inglese. La Chiesa anglicana aveva una sua gerarchia interna, aveva come capo il re, era stata fondata da Enrico VIII, dal resta un re. Il re sceglieva personalmente i vescovi, come ho già detto, tra le famiglie dell'antica nobiltà. La comunità dei puritani, che si ispiravano al calvinismo, avevano severi costumi morali, combattevano le forme esteriori di culto, combattevano tutte le manifestazioni del potere assoluto. Affermavano che i fedeli, coloro che prendevano parte alla comunità, avevano il diritto di eleggere i propri pastori e si opponevano al potere assoluto del monarca. Avevano quindi una visione più democratica della vita politica. Per questo erano più vicini agli interessi delle classi emergenti. Infine c'erano i cattolici, i quali non erano considerati importanti, né da un schieramento né dall'altro, del Parlamento, ed erano soprattutto concentrati in Irlanda e in Scozia. Alla morte di Elisabetta I, eredita il trono Giacomo Stuart, figlio di Maria Stuart, la cattolica che Elisabetta aveva fatto giustiziare accusandola di tradimento. Lui però si era convertito alla religione anglicana, quindi era sostenuto dalla vecchia aristocrazia. Divenuto re, adottò il modello dello stato assoluto e del principio divino, del diritto divino, cioè nel fatto che il potere del re gli era conferito da Dio direttamente. Suscitò quindi l'opposizione delle nuove classi dirigenti, cioè la gentri, i piccoli proprietari terrieri, soprattutto per questioni legate sempre, quasi sempre le questioni furono queste, all'imposizione delle tasse, le quali dovevano servire a coprire le spese della corte. Iniziò a perseguitare i puritani, tanto da causare una massiccia emigrazione, ma fu proprio in questo contesto che avvenne la spedizione della nave Mayflower, approdata sulle coste dell'America settentrionale con i padri pellegrini, e che fu il primo nucleo degli insediamenti inglesi in America. Il figlio di Giacomo II, Carlo I, accentuò le tendenze assolutistiche del padre. Quando però cercò di imporre nuove tasse per finanziare la partecipazione alla guerra dei 30 anni, il Parlamento lo costrinse a firmare, in cambio, il Petition of Rights, cioè un documento che chiedeva che il sovrano non potesse imporre tasse senza l'approvazione del Parlamento e non potesse imprigionare nessuno se non dopo un regolare processo. Carlo I firma la petizione, ma poi chiude il Parlamento e per dieci anni non lo riconvoca. Ad un certo punto però ha la necessità di trovare del denaro, perché deve combattere contro la Scozia, che non vuole essere costretta ad aderire alla chiesa anglicana, gli scozzesi erano cattolici, e quindi il re deve riconvocare il Parlamento. Questa riconvocazione si chiama short parliament perché dopo un mese il re lo scioglie di nuovo. Però, visto che l'opposizione della Scozia continuava, il re ne deve convocare un altro, detto long parliament, perché durò tredici anni, ben oltre la vita del re. Il sovrano non tollerava però che la Camera dei Comuni, e soprattutto la componente puritana, contrastasse i suoi progetti e nel 1642 fa arrestare i capi dell'opposizione in Parlamento. Questo atto diede il via alla guerra civile, nella quale si scontrarono fino al 1648 da una parte il re, la chiesa anglicana, la vecchia aristocrazia, e dall'altra il Parlamento, la gentri e le classi imprenditoriali londinesi. La guerra civile durò fino al 1648 e venne vinta dai sostenitori del Parlamento, l'esercito capitanato dal nobile puritano Oliver Cromwell. Cromwell fece allontanare dal Parlamento tutti coloro che erano favorevoli al re, una volta andato al potere, e all'inizio del 1649 il Parlamento condannò a morte il sovrano, che venne decapitato. Venne poi proclamata la Repubblica. Era la prima volta che la testa di un re cadeva sotto i colpi di una rivoluzione. Fu un evento sconvolgente, perché fece intravedere un nuovo modo di intendere i rapporti fra governanti e governati. Il popolo aveva dimostrato che poteva abbattere il re, anche se questo re era un re assoluto. Cromwell diventò il capo della Repubblica e instaurò però una dittatura. Represse l'opposizione, attuò una politica economica fortemente protezionista, promulgando il Navigation Act, che vietava alle navi non inglesi di entrare nei porti inglesi, in modo tale da evitare che in Inghilterra entrassero prodotti stranieri, prodotti provenienti dall'estero. Alla morte di Cromwell nel 1658, dopo le brevi parentesi dei suoi successori, la monarchia fu restaurata con l'insediamento di Carlo II, che significò il ritorno alla classica opposizione, che era organizzata in due schieramenti, i Tories, favorevoli alla monarchia assoluta degli Stuart, alla chiesa anglicana, che rappresentavano gli interessi dell'antica aristocrazia, e i Wigs, sostenitori del ruolo primario del Parlamento e della tolleranza religiosa, ed erano portavoce degli interessi dei ceti mercantili e della Gentri. Questi ultimi osteggiavano la politica assolutistica di Carlo II, che ribadì l'atto di navigazione, contro gli interessi delle classi economicamente più attive, che erano contrari al protezionismo, che erano favorevoli ai commerci internazionali, ma soprattutto si alliò con Luigi XIV, che era rappresentante della monarchia assoluta. Ma quando gli successe Giacomo II, di religione cattolica in più, e convinto sostenitore dell'assolutismo, il Parlamento nel 1689 decide di offrire la corona d'Inghilterra a Guglielmo d'Orange, che era il genero di Giacomo II, il marito di sua figlia, di religione protestante, ed era disposto a giurare fedeltà alla dichiarazione dei diritti, o Bill of Rights. Guglielmo d'Orange sbarcò in Inghilterra, ma non ci fu nessuna battaglia. Giacomo II, infatti, fuggì in Francia, e Guglielmo d'Orange e Maria Stuart, figlia di Giacomo II, appunto, furono proclamati dal Parlamento sovrani d'Inghilterra. Si compiva così la gloriosa rivoluzione, detta in questo modo perché non fu versata una goccia di sangue. Il Bill of Rights, che Guglielmo d'Orange aveva accettato di sottoscrivere, stabiliva che il re avesse dei limiti nell'imporre le tasse e nel rispettare le libertà fondamentali dei cittadini. Era così definitivamente tramontata in Inghilterra la monarchia assoluta ed era nata la monarchia costituzionale. Era stata inoltre messa in pratica la separazione dei poteri. Questi sono i principi del liberalismo, cioè appunto il potere del Parlamento, la separazione dei poteri, la presenza di una costituzione che in qualche modo limita i poteri del sovrano assoluto e queste sono le idee che si oppongono appunto all'assolutismo.